Sveglia, 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 dai, sveglia, adesso basta, sveglia, muore. Stasera parleremo di tasse, di tasse non pagate, che pensate, in Italia sono 120 miliardi di Euro all'anno, ci si potrebbero fare 5 finanziari. Il reato di immigrazione irlandestina sarà punibile con un'ammenda dai 5 mila ai 10 mila euro. Centri di identificazione ed espulsione, il trattenimento potrà durare... Due neonati negli ospedali riuniti di foto e di un paziente nel polichinico di Bari, Il reato di immigrazione irlandestina sarà punibile con un'ammenda dai 5 mila ai 10 mila euro. Centri di identificazione ed espulsione, il trattenimento potrà durare... Sveglia, 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 svegliati! Apri gli occhi, guarda, ascolta, ma svegliati. Grazie. 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 Grazie.